Grazie a tutti. Poi oggi, ricordiamo, tornano in asta bot con scadenza annuale, domani ancora BTP con scadenza 3,7 anni. Quanta fiducia sull'obbligazione dell'italiano? Ripartiamo da qui per la nostra discussione con Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF come in studio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gazziano, abbiamo avuto questa mattina un'apertura dello spread in leggera flessione, in area 273 punti base. Abbiamo visto alla fine della settimana scorsa tornare ad avvicinarsi in area 290 punti. Quanto incide sul mercato delle obbligazioni, anche per chi decide di andare a comprare oggi o domani le obbligazioni del nostro paese, il contesto internazionale rispetto invece alle fonti di incertezza come quella di Banca Italia che abbiamo visto in queste ultime giornate? Sicuramente l'incidenza dei dati macroeconomici o delle fonti di distensione internazionale hanno sicuramente un effetto positivo sui mercati nel caso di una maggiore distensione sul fronte geopolitico. E' anche vero che l'Italia è sempre un focolaio infinito di possibili tensioni e se andiamo a vedere l'andamento di Piazza Affari rispetto ad altri mercati sia europei sia nei confronti dell'indice azionario mondiale vediamo che da anni è un comportamento che è abbastanza decorrelato, nel senso che va peggio del mercato in maniera molto forte, se ricordiamo che dal 2007-2008, ormai dopo 10 anni siamo ancora a meno 40-50% mentre il resto delle altre borse mondiali, soprattutto quella americana e quella tedesca, sono salite ben oltre i massimi, addirittura sono più che triplicate di valore dei minimi. Questo significa che la borsa italiana comunque di tutto quello che succede a livello interno, dalla crescita del PIL che è di 20 punti più bassa di altri paesi europei in questi ultimi 10 anni, a tutte queste fonti di preoccupazione sul fronte del debito pubblico, delle banche, inevitabilmente questo chiacchiericcio che tale non è perché poi si riberbera sui conti delle aziende italiane e molto spesso anche sulla competitività delle aziende italiane, un suo perché ce l'ha e non a caso se andiamo a prendere l'indice azionario mondiale, Piazza Affari oggi pesa all'interno dell'indice MSC World poco meno dell'1% mentre nel 10-15 anni fa era del 2-3%, quindi dobbiamo tenere certamente conto dei dati positivi che riguardano l'azienda Mondo, ma l'Italia sicuramente non vanno mai trascurati anche i segnali di debolezza, i punti deboli che Piazza Affari non tanto ha nelle sue aziende quotate che spesso hanno una quota di export, sono delle vere aziende gioiello, soprattutto nel Midex ce ne sono molti casi, ma le aziende molto legate al mercato interno sicuramente risentono di questa situazione sicuramente molto piena di chiara oscuri. Salvatore, quest'anno, ormai un mese e mezzo dall'avvio dell'anno, a quasi tutti i suoi colleghi sto chiedendo se si può tornare ad acquistare il settore bancario italiano, molti mi dicono che stiamo ancora distanti, ieri i risultati dei test SREP della Banca Centrale Europea, perciò i requisiti minimi di capitale chiesti da Francoforte, hanno visto brillare, quindi superare ampiamente questi requisiti, parliamo di Unicredit, Banco BPM, Ubi per citarne alcune, è ancora dello stesso avviso? Ma noi come società di consulenza, continuando il ragionamento prima, sull'Italia diamo un peso sui portafogli della consulenza personalizzata bassa per le ragioni che abbiamo espresso, sul settore bancario siamo abbastanza scarichi da diverso tempo, anche se giustamente i dati usciti ieri, il cosiddetto SREP, cioè le pagelle che ha dato la vigilanza europea, la BCE sui requisiti patrimoniali, hanno dato uno specchio di un sistema bancario italiano, non pronunciamo la parola solido che porta malissimo, ma comunque con molte banche che hanno un cuscinetto abbastanza capace in teoria di essere in grado di affrontare i mari più perigliosi e soprattutto c'è stata la sorpresa nel caso di Banco Popolare di Milano, Banco BPM, di addirittura vederselo ridurre, non a caso è stato fra i titoli migliori, quindi diciamo che anche qui bisogna sempre distinguere fra banche e banche, società e società, quello che abbiamo visto anche dalle trimestrali pubblicate ieri che rappresentano per molte banche anche di fatto il consuntivo 2018, bisogna appunto anche lì andare a vedere fra banche e banche perché per esempio quello che ieri ha colpito, ma non solo da ieri, è che ci sono all'interno del sistema bancario italiano diversi modelli di business, fra banche specializzate nel risparmio gestito che hanno determinati reddittività e hanno quasi zero sofferenze o anche banche che si sono specializzate in questi anni nei cosiddetti non performance loans, nel cercare di andare a fare il recupero crediti, ieri abbiamo visto i dati di Banca IFIS che è stato fra i titoli migliori con un rialzo a doppia cifra perché rispetto al trimestre precedente ha più che raddoppiato l'utile, anzi più 150%, con un utile netto di 150-160 milioni di euro e parliamo di una banca che in questi anni è letteralmente decollata rispetto a 10-15 anni fa proprio perché ha saputo fiutare il tempo e capire che la banca tradizionale non poteva magari reggere più ma puntare su altri meccanismi, su altri mercati, dalle sofferenze piuttosto che al factoring o puntare sulle imprese e sulla tecnologia o anche altri banche in questo settore penso a DoBank piuttosto che Cerved e anche all'interno delle trimestrali pubblicate in questi ultimi giorni alcune banche hanno mostrato dati molto solidi e forti nonostante un quarto trimestre difficile penso a Mediobanca, altre che hanno continuato molto bene l'opera di pulizia, non a caso Banco BPM è stato fra i migliori ma per tornare alla domanda quello che alleggia sempre è sicuramente una buona opera di derisking come si suol dire nel settore da parte del sistema bancario ma dall'altra parte la sfida di tutte queste banche è quella delle banche tradizionali e riuscire a mantenere forte la raccolta e soprattutto i margini che in un mercato di questo tipo per molte banche è sicuramente una sfida molto molto sempre più difficile C'è chi cerca di vincere questa sfida unendosi come hanno fatto Biper e Unipol Banca e di questo parliamo per aggiornarvi sull'ultimo giudizio di Kebler-Chevro su Unipol passa il rating da tenere a comprare con un prezzo obiettivo che si alza da 4,50 euro a 4,85 euro secondo gli esperti il recente calo del titolo su qualche presa di profitto dopo la cessione di Unipol Banca Biper offre un'eccellente opportunità di acquisto per nuovi investitori la società ora è più semplice dicono da Kebler-Chevro ma il titolo paga uno sconto conglomerato eccessivo di oltre il 30% andiamo a parlare anche di un'altra vicenda che da questa mattina abbiamo tornato a sottolineare cioè a Staldi perché dovrebbe chiudersi la partita nelle prossime giornate il 14 febbraio peraltro c'è deadline con il Tribunale di Roma per la presentazione del concordato Salini-Pregilo è in pole position per sostanzialmente presentare un piano di rilancio a partire dalla ricapitalizzazione quanto può fare bene effettivamente un accordo tra le due per il futuro di a Staldi? diciamo che per a Staldi oramai in pista è rimasto fondamentalmente solo Salini perché l'altro partner che era stato annunciato quasi un anno fa la giapponese I.I difficilissima da pronunciare tento una pronuncia improbabile probabilmente si è ritirata e a questo punto è veramente una ciambella di salvataggio molto importante in una partita molto difficile perché ricordiamo che a Staldi ha 4,5 miliardi di debiti a cantieri in tutto il mondo con un portafoglio ordine che fino a pochi mesi fa veniva stimato addirittura in 25 miliardi di euro ma è una situazione molto difficile con il ceto bancario e non a caso le banche saranno chiamate a dover abbattere in maniera molto forte i propri crediti e anche ieri un altro effetto diciamo di questa notizia di questo accordo che si spera che si raggiunga per San Valentino che farà tremare i cuori di molti azionisti ma anche obbligazionisti è stato il bond a Staldi che è stato collocato negli scorsiani che è nelle mani di molti risparmiatori che ha visto ieri i nuovi minimi intorno a quota 20 e già il mercato stima che la ristrutturazione del debito potrebbe valere proprio il 70-80% quindi è una partita molto importante dove anche rischia anche la stessa Salini in pregilo perché la partita a Staldi è una partita molto grande, molto grossa e anche deve cercare di trovare di gestire la situazione senza danneggiarsi troppo perché se dovesse entrare in quota troppo significativa e dover consolidare il debito sarebbe sicuramente un grosso problema per Salini in pregilo che non a caso si pensa ormai in un'operazione in due round dove coinvolgere anche casa depositi e prestiti e cercare di creare una sorta di campione nazionale come esiste in Germania o in Francia nel settore delle grandi costruzioni quindi è una partita molto difficile, molto complessa che anche qua insegna a molti risparmiatori che magari erano stati attirati da Staldi sia le azioni sia molto spesso dalle obbligazioni che talvolta quando le società iniziano a mostrare prezzi in caduta il tentativo di molti risparmiatori di buttarsi sui bond perché rendono molto o sulle azioni che più di così non possono scendere invece un approccio sia basato sui fondamentali sia dal punto di vista quantitativo è il migliore che la fuga, i piedi, come di svuotare quei piedi talvolta è il modo migliore uscire per evitare di cadere in situazioni di questo tipo Parliamo un'ultima puntata con Gazziano parliamo ancora di obbligazioni per guardare a Juventus lo abbiamo detto poco fa, il CDA ha deliberato la possibilità di mettere una o più tranche entro il 30 giugno per un prestito obbligazionario non convertibile che abbia valore nominale complessivo compreso tra i 100 e i 200 milioni di euro con collocamento riservato ai investitori qualificati che significato ha questa operazione? Da una parte non mi stupisce perché di fatto oramai Juventus mentre in Italia un po' consideriamo i titoli del settore calcio quasi delle scommesse come fossero corse dei cavalli in realtà Juventus rispetto a competitor, penso Manchester, piuttosto di altre società quotate oramai è entrato nel mirino anche di investitori internazionali quindi non mi stupisce anche il fatto che l'emissione è prevista per investitori qualificati perché di fatto molti investitori esteri considerano oramai la società calcistica di fatto una proxy qualcosa di simile a delle società media perché producono fondamentalmente contenuti che vanno sui smartphone, vanno in tv e che questi flussi sono previsti in grande crescita in tutto il settore espertivo altro caso clamoroso in questi anni è anche persino la società che produce il wrestling ha avuto delle ascese incredibili quindi vi è da parte di molti investitori il riconsiderare i rating e i multipli di queste società e Juventus sicuramente in Italia e non solo in Italia ma in Europa viene considerata una società che è ben gestita e che è in grado nei prossimi anni ancora di poter dare grandi soddisfazioni da questo punto di vista Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF grazie per essere stato con noi alla prossima occasione brevissima pausa e poi siamo insieme per seguire in diretta l'apertura di Piazza Affari e delle principali borse europee grazie